Nel tempo della maggioranza della sessione di lavori di ottobre del Consiglio Provinciale di Bolzano è stato approvato con 22 sì e 7 astensioni un disegno di legge della Giunta che aumenta di 182 milioni il bilancio di previsione 2024-2026 della provincia. I mezzi aggiuntivi, così ha spiegato il Presidente della provincia, derivano tra l'altro da entrate fiscali aumentate grazie ad uno sviluppo economico positivo, debiti non contratti, allocazioni e risparmi. Circa la metà dell'importo, 90 milioni, vengono aggiunti ai mezzi disponibili per le contrattazioni collettive. 40 milioni vanno alla mobilità. Intervenendo in merito consiglieri e consigliere hanno apprezzato in particolare i progressi nelle contrattazioni collettive e criticato invece l'ingente importo per la mobilità. La settimana di sedute si è conclusa con l'approvazione di tre proposte della maggioranza. Due erano firmate da SVP e la Civica e miravano ad una migliore offerta per i punti di ricarica pubblici per le auto elettriche e a promuovere misure per evitare sofferenze agli animali in occasione del relativo trasporto. I grandi predatori sono stati il tema della terza mozione con cui la SVP ha proposto una serie di interventi per sostenere la riduzione del relativo status di protezione e regolarne i prelievi.